Allora ragazzi, ieri stavo nervoso, ieri quando ho fatto quel video, ieri sera stavo proprio nervoso, anzi vi invito ad andare a vederlo se non l'avete visto, l'ultimo video di ieri che ho fatto nel poveriggio, perché quando ho letto quella notizia ragazzi, nessun deferimento per Conte e retrocesso l'albitro, lì ho capito, lì ho capito che c'è un attacco che in questo momento è diventato diretto verso l'Inter, adesso continuiamo a parlarne però in modo più soft, più allegro, perché poi non voglio diventare di quelli che stanno incazzati perennemente, faccio un video incazzato però poi ne devo fare 10 allegri per compensare e vi parlo di... Allora voi sapete no? Io vi ho detto, basta mi sono rotto di guardare il programma Tele Lombardia Top Calcio, mi sono rotto e ieri ne parlavo con un amico, nel pomeriggio sono uscito, mi stavo prendendo un caffè in piazza San Toronzo con un amico e niente, gli ho detto e parlavamo proprio di questo, dicevo no no, io gli dicevo non guarderò più quel programma perché è un programma di indegni e pagliacci proprio, li chiamano addetti ai lavori ma di addetti ai lavori non c'è proprio niente, non c'è proprio niente e invece ragazzi questo qua diceva ma davvero così sconcio questo canale così e io dicevo sì sì guarda è proprio qualcosa e lui gli ha detto vabbè stasera voglio proprio provare a vedere di che cosa parla, non l'aveva mai visto lui e insomma ragazzi lui interista pure e stamattina mi sveglio e mi trovo un vocale di tre minuti e mezzo su whatsapp di tre minuti e mezzo io lo guardo e dico ma che cosa vuole questo tre minuti e mezzo di vocale e vabbè me lo ascolto e mi sono scritto tutto quello che ha detto nel vocale per darvi la prova di quanto indegno quel programma, ragazzi iscrizione al canale grazie davvero ragazzi 50 iscrizioni in tre giorni sono davvero tantissime sono davvero tantissime mi piace questa cosa perché vuol dire che anche voi volete difendere quei colori a cui volete bene e quindi continuiamo a difenderli insieme iscrivetevi iscrivetevi mettete il like al video e sentiamo un attimo che cosa sono riusciti a dire mi ha scritto non solo mi diceva cioè io mi sono scritto sia quello che hanno detto sia chi l'ha detto cioè lui nel vocale mi ha detto anche chi è che diceva queste cose allora si comincia subito così no comincia proprio la puntata dice e sopra c'era la sapete no mettono il titolo tra poco e il titolo era quando quando presentano gli ospiti no presentano gli ospiti però sopra c'è già il titolo e il titolo era lautaro è nervoso e sbotta contro un tifoso quindi lautaro è nervoso ragazzi ora mettono pure il fatto che lautaro sia nervoso e quindi che cosa succede sorriso nervoso allora c'è mauro suma mauro suma che che un attimo perché poi mi devo ricordare tutto il messaggio vocale anche se ce l'ho scritto però mauro suma che praticamente dice si vede il sorriso nervoso cioè l'inter in questo momento è nervosa tutta l'inter e si vede anche dal sorriso nervoso di marotta durante l'intervista durante l'intervista quando risponde quando gli chiedono guardi che scaroni ha detto che lui è il presidente dell'unica squadra di milano e in questa intervista suma ci ha visto un sorriso nervoso cioè lui parla che non sa neanche sorridere che quando fa quel mezzo sorriso proprio tirato così che non è abituato il suo viso a sorridere ed è vietato sempre suma questo è vietato parlare di taremi è vietato parlare di taremi noi ne parliamo sempre di taremi non so perché è vietato di parlare di taremi ma noi ne parliamo sempre di taremi caro suma però andiamo avanti scaroni continuano a dire questo massimo franchi per esempio ha voluto perché poi massimo franchi si è giuventino però molte volte non lui difende l'inter dalle i meriti all'inter dice che l'inter è forte che ha vinto perché è forte scaroni dice a me piacciono tutte le immagini in cui alziamo una coppa alziamo una coppa e quindi massimo franchi dice ecco quindi sta guardando delle immagini in bianco e nero bella questa questa mi è piaciuta e mi ha fatto davvero tre minuti e mezzo di vocali mi sono fatto delle risate poi ha continuato suma dicendo è meglio parlando di scaroni che diceva sono il presidente dell'unica squadra di milano allora tutti no massimo franchi che diceva ma ma che dichiarazione è no e ma lo suma diceva dai sta scherzando e mi dice sono meglio le dichiarazioni goliardiche di scaroni hanno detto ma secondo te è meglio la di che sono meglio le dichiarazioni goliardiche di scaroni o la risposta nervosa di marotta che c'è marotta che ha detto nessuna risposta andatevi a vedere l'intervista un marotta tranquillo sereno sorridente che dice sì vabbè lui è un amico può dire quello che vuole però le due stelle ce l'ho io c'è basta questo ha detto niente di niente di nervoso e niente di che poi entra in scena vito elia a un attimo poi lui dice che biasin c'era la sedia vuota ancora non era arrivato però poi arriviamo alla fine arriva biasin che dà il colpo di grazia vito elia che si dice che vito elia nervoso proprio arrabbiato dice la doppia stella e non deve essere un vanto per l'inter se la juve ne ha tre c'è ma che cosa c'entra vito elia che cosa c'entra io io una cosa chiedo al direttore al direttore che comunque il direttore nel suo video dice sì il rigore per l'inter può anche essere diciamo generoso però comunque è un rigore che l'arbitro ha visto l'arbitro ha dato ed è giusto che non si parli di quel rigore il protocollo è a favore dell'inter quindi non ha neanche parlato però diciamo però vito elia vito elia è quel classico addetto ai lavori addetto ai lavori che secondo me entra negli studi ubriaco ehi ragazzi ditemi quello che volete ma io vito elia lo vedo ubriaco ubriaco per me vito elia è ubriaco mentre sta lì perché si vede ha degli scatti ha delle non lo so per me è ubriaco io lo dico con molta sincerità quindi noi l'inter non si può vantare di avere due stelle di aver raggiunto le due stelle perché la juve ne ha tre e quindi che cosa significa scusa qual è il problema tuo qual è il problema tuo poi parla dell'aurentis fanno sentire dell'aurentis che dice sono d'accordo con ecco qua arriva poi arriva a quanto mi scrivi ho sentito nel vocale no arriva biasin arriva biasin arriva proprio nel momento in cui fa leggono le parole di dell'aurentis anzi no essuma a dire le parole di dell'aurentis essuma dice io sono d'accordo con dell'aurentis perché dell'aurentis dice sono d'accordo con conte il var deve intervenire sempre altrimenti si rovina il gioco del calcio no quindi suma ripete le parole di dell'aurentis che è d'accordo con conte e suma è d'accordo con dell'aurentis ma lo suma è logico no essere d'accordo con dell'aurentis significa non essere d'accordo con l'inter quindi lui la sua filosofia è non andare d'accordo con l'inter e ok e allora queste parole ricordatevele sono ricordatevi questa frase il var deve intervenire sempre altrimenti si rovina il gioco del calcio la prima cosa che dice biasin appena entra negli studi perché lui arriva sempre in ritardo è vero su questa cosa lo so la prima cosa che dice sapete chi ha detto la stessa frase e nessuno se l'è filato ripeto la frase il var deve intervenire sempre altrimenti si nel calcio il gioco del calcio e quindi biasin sapete che ha detto la stessa frase e nessuno se l'è filato e tutti chi 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 il presidente dell'empoli dopo empoli napoli ragazzi dopo empoli napoli perché il bar non poteva intervenire perché l'arbitro aveva visto il tocco quando c'è un tocco il protocollo dice che il bar non può intervenire quindi ragazzi parliamo di pagliacci sono tutti dei pagliacci così che sono anti interisti non sono né milanisti né giuventini sono anti interisti parliamo di pagliacci però io ripeto una cosa l'inter tutto quello che ha vinto se l'è meritato non possiamo dire la stessa cosa della juventus caro vito elia milanista perché oggi i milanisti leccano il sedere e si fanno la lingua marrone agli giuventini agli giuventini gli leccano il sedere sono dei gobbi ormai sono più gobbi milanisti e poi nel prossimo video parliamo di dell'uomo più triste d'italia perché ha fatto un video ragazzi ha fatto un video su inter provercelli con i ragazzini della provercelli ha fatto un video poi dopo ne parliamo ragazzi ne parliamo allora di pranzo più o meno rispondiamo un attimo all'uomo più triste d'italia un gobbo un gobbo maledetto è diventato un gobbo perché lui col milan non c'entra niente sta difendendo uno scudetto della provercelli contro l'inter ha fatto un video sul 1910 ha fatto un video ma lui sembra uno del 1910 sembra proprio nato nel 1910 alla postura di un vecchietto nato nel 1910 se lo guardate bene sembra di 114 anni comunque ragazzi ne parliamo dopo allora Grazie.